A Fano continuano a spuntare casi di febbre dengue, malattia indotta dall'omonimo virus che si trasmette con la puntura delle zanzare e non per contagio diretto. Dopo il primo episodio accertato mercoledì nel quartiere di Centinarola è cresciuto il numero di casi acclarati dall'azienda sanitaria territoriale. In base ai dati disponibili al momento abbiamo 11 casi confermati, di cui 10 sono residenti nel comune di Fano e uno residente nel comune di San Costanzo. Poi abbiamo una situazione di altri due o tre casi che siamo in attesa di eventuali approfondimenti diagnostici. Dopo la prima disinfestazione circoscritta al quartiere di Centinarola il comune di Fano ha disposto un'opera di disinfestazione che è stata fatta slittare per maltempo. Ser Filippi ha annunciato che comincerà dalla mezzanotte di sabato nelle zone di Vallato, Centinarola e nel centro storico, ovvero in quelle aree in cui sono stati confermati i casi che proseguiranno fino a domenica notte. Interventi che rispondono a indicazioni sanitarie sul contenimento di una patologia che ha già contato più di 400 casi diagnosticati in Italia in questo 2024. La dengue è una malattia che non si trasmette da uomo a uomo, si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta, la zanzara punge una persona che molto probabilmente è rientrata da un viaggio, da una zona endemica magari asintomatica, in fase viremica la zanzara la punge, dopo un periodo di incubazione intrinseco la zanzara diventa contagiosa e pungendo un'altra persona può trasmettere l'infezione. L'infezione nella maggior parte dei casi è asintomatica, dal 40 al 80% dei casi è completamente asintomatica e pasta misconosciuta. Nelle forme sintomatiche invece la presentazione più comune è quella di una malattia febbrile a specifica di entità lieve e moderata. Soltanto in casi eccezionali la patologia può avere un andamento più grave, e questo in genere si verifica nei soggetti che sono avanti con l'età o hanno delle comorbosità e un fattore di rischio importante per malattia grave è la seconda infezione, cioè l'infezione che colpisce i soggetti che sono stati già infettati precedentemente. Rassicurazioni sanitarie sulla contrazione del virus che resta spesso asintomatico, rassicurazioni da parte del sindaco Serfilippi che getta acqua sul fuoco di facili allarmismi su un'opera di disinfestazione che non richiederà un coprifuoco. Si potrà infatti circolare liberamente senza restrizioni, così come tutte le attività commerciali potranno rimanere aperte. Il massiccio trattamento insetticida dovrebbe infatti imprimere un importante contenimento della propagazione della stessa febbre. Considerando il numero dei casi, anche la localizzazione dei casi, abbiamo raccomandato al comune di fare un intervento urgente di disinfestazione in tutta la città, anche con trattamento larvicida in modo di avere un effetto a lungo termine e quindi evitare interrompere la catena di trasmissione attraverso le zanzare. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo la zanzara tigre, dal 1990 in Italia è presente la zanzara tigre, Edes albobictus, che non è un ottimo vettore della Deng come la zanzara tropicale Edes albobictus, ma è comunque un vettore che può veicolare il virus e quindi mantenere la catena di trasmissione.